E' appena terminata Breganza e Viareggio, quindicesima giornata, campionato 2016-17, 2-2 il risultato finale, una partita che non ha tradito le attese, Breganza e Viareggio è la cosiddetta sfida infinita e questo è stato l'ennesimo capitolo. Tra i protagonisti un giovane è assolutamente già pronto, Davide Gavioli. Le tue impressioni sul match, Davide? Io parlo dalla nostra parte, noi secondo me abbiamo giocato una grandissima partita, non possiamo dimenticare anche che noi veniamo da 6.000 km in praticamente tre giorni, perché siamo andati fino su in Francia, so neanche io dove, e poi siamo venuti qui a Breganza in trasferta, quindi secondo me per noi è un risultato che probabilmente poteva anche essere più positivo per noi, però poteva anche essere negativo, quindi alla fine abbiamo giocato bene, siamo felici, ci teniamo questo risultato e torniamo a casa felici comunque. Anche se con un qualche rammarico, però abbiamo giocato bene, quindi siamo felici. Su quel palo del tuo compagno di classe, perché stiamo parlando di un giocatore di classe infinita, cioè Mirko Bertolucci a 9-10 secondi della fine, cosa hai pensato? Io lì ho pensato che ci andava, non si può dire bene, perché ci andava giusto dai, abbiamo fatto una bella azione lì, è stata proprio sfortuna che la palla non ha voluto entrare, però è andata così, non è che si può tornare indietro, si può spingere la palla dentro, quindi alla fine si accetta così e basta. Come sta andando la tua prima esperienza in A1, lontano da casa? Cosa ti aspetti dal prosieguo di questa stagione, Davide? Ma allora, per adesso io sto veramente, sono trovando benissimo come già pensavo, ovviamente. Vi regge una bella città, dei grandi tifosi, una gran squadra, comunque abbiamo allestito, abbiamo delle grandi aspettative dietro questa squadra e sono felice di far parte di questo gruppo e stiamo facendo una bella stagione, secondo me, con qualche alto-basso, ma i risultati si vedranno alla fine della stagione. Secondo te Breganze può essere il protagonista fino alla fine? È una squadra veramente forte, secondo me è ostica, ha un buon portiere che è il mio amico Bruno, che anche oggi ha parlato veramente bene, è una bella squadra, tanto tecnica comunque, è dura da affrontare sia in casa che fuori, quindi secondo me può dire la sua, tranquillamente, anzi, dovrà farlo. Grazie Davide per la disponibilità, in bocca al lupo per il prosseguo della stagione. Grazie.